Dalle Marche all'Italia al mondo e poi di nuovo alle Marche, le sue Marche che non dimenticava mai di ricordare. Mattelica celebra oggi, nel sessantesimo anniversario della sua morte, il suo cittadino più illustre, Enrico Mattei, nato nel 1906 ad Acqualagna e cresciuto appunto a Mattelica. Io mi sono sempre stupito di quante volte Mattei nei suoi discorsi, anche nelle conversazioni private, abbia citato Mattelica. Per lui la giovinezza passata a Mattelica era la materia che gli dava l'energia che l'ha portato a essere un genio, un fondatore della storia dell'Italia repubblicana. Il miracolo di Mattei inizia nel 1945 quando viene nominato dal governo liquidatore dell'Agip. Invece di seguire le direttive e chiudere la società, Mattei riorganizza l'azienda e fonda Leni, dando vita al miracolo economico italiano post bellico e stringendo accordi e amicizie ancora oggi ben salde. Come abbiamo visto oggi ci sono i rappresentanti del popolo algerino che lo stimano tantissimo perché è riuscito anche a dare una mano a loro per poter essere liberi, riconquistare la libertà dal colonialismo e ci danno il giusto aiuto perché oggi, come oggi, con la crisi energetica che abbiamo, con la guerra che c'è in Ucraina, loro ci stanno dando una grossa mano. Ricordato anche dalla nuova premier Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento, Enrico Mattei, che parlava di energie rinnovabili già nel 1958, rappresenta oggi una figura più attuale che mai. In questo momento, in maniera particolare, cogliamo l'importanza delle politiche e delle strategie energetiche fondamentali per le famiglie, per la crescita dell'Italia e dell'Europa. Il metodo Mattei è questo che oggi dobbiamo insegnare ai giovani e tramandare, senza dimenticare mai, il sacrificio enorme che Mattei ha offerto a questo paese. Che Mattei sia stato ucciso, mi sembra che sia molto chiaro. Mattei è l'esempio che ci ha lasciato, da far capire ai ragazzi che tutti possono diventare dei piccoli Mattei. Basta la volontà.